Musica Quella mossa non è valida. È una variante europea. L'arrocco. Interessante, ma non è proprio corretto giocare con regole diverse dall'avversario. Potreste non pensarla così quando sarete sultano. Lo rimetto a posto? Solimano, so che è stata dura per te vedere tuo padre e me litigarci il trono di Paiesina. Il nonno ha scelto voi e la sua parola è legge. Non vedo cosa ci sia da discutere. Tuo padre e io eravamo uniti un tempo, ma la crudeltà e l'audizione... Ho udito quanto si dice, zio. Bene. Ah, ho un incontro con i vizier a breve. Continuiamo un'altra volta? Quando vi aggrada. Ezio. Tarek ha venduto armi a uno spilorcio locale. Manuele Paleologo. Paleologo? Che suono sgradevole. L'ultimo imperatore bizantino era Costantino Paleologo. Se il suo erede sta armando qualche sorta di milizia, il conflitto si intensificherà. Tarek conosce la destinazione dei fucili. Se lo trovo per primo, posso seguire le armi fino ai bizantini. Lo troverete con i suoi giannizzeri alla caserma. Ma se volete avvicinarvi, dovrete diventare uno di loro. Non è un problema. Bene. Ottenete le informazioni e poi... uccidetelo. Ne siete certo. Ma avete detto che Tarek e vostro padre sono amici, Solimano. Questo è vero, ma un simile tradimento nei confronti di mio nonno merita la morte. Intesi. Non è vero, non è vero, non è vero, non è vero. Non è vero, non è vero, non è vero. Non è vero, non è vero, non è vero. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.